Uuuuh! Posso? Sì! Come here! Come here little fuckers! I kill you! Hi guys! Ben ritrovati qui con il vostro Rex91 Come potete vedere siamo nuovamente qui su Alan Wake Ehm... Niente cosa avevamo fatto? Stavamo qui Dovevamo raggiungere l'ultimo piano del granaio Cioè non mi sembra abbia 30 piani Questo granaio Ne ha solo uno Cioè l'ultimo piano a meno che non intende il tetto Ma... Soprattutto ma che cazzo di fumo è quello? Ah vabbè chi se ne frega Comunque... Uuuuh 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 no 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 Cioè quindi non cascava io mi sono fatto un culo per niente Perfetto bravo Alan Bravo 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 Perfetto Ehm... Siamo anche finendo le munizioni per la pistola Spero di trovare delle munizioni qui dentro Ehm... comunque stavo dicendo prima che... What the... Ehm... schifoso Nelma nera di merda Uuuuh ecco appunto Ehm... ok prima che mi interrompesse per la 150 millesima volta questo cavolo di gameplay Ehm... muori Ehm... stavo dicendo mi dispiace se il vecchio episodio era durato... Undici minuti dodici minuti non mi ricordo Ehm... purtroppo avevo calcolato male il tempo Ehm... Ehm... purtroppo è venuto un po' di meno Quindi recupererò comunque se lo farò da 20 minuti anzi che da 15 Ehm... quindi 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 Possiamo fare del pane? No non credo Anche perchè ci sarà il... Uh... pagina del manoscritto Ehm... no anche perchè credo che il grano qui sarà tipo buffo Il legname era un disastro L'ufficio prefabbricato era stato spinto giù dalla collina L'agente Thornton riemerse dalle macerie Agitato il respiro pesante per lo sforzo Non c'è nessuno Strano Non trovi che sia strano? Mulligan annoiato sbuffò con forza E' sempre strano Thornton Diamine Bisogna solo capire di che stranezza si tratti stavolta Va bene Cioè è sempre strano Ma andarsene da una città che è sempre strana no? Ma vabbè Lo sanno loro lo sanno loro che c'è Ma che mi frega mi sto anche facendo Uh calciamo Vai Ricordati le lezioni di football Sempre che lui ehm Uh Vai Ok ok Non ha funzionato per niente Ok fail Fail Ultra fail direi anche Il problema è C'è come cazzo Che coglione con spazio Ah ok Lasciate perdere Ehm Barry a Elderwood Quando Barry vide l'oscurità attaccare l'ufficio turistico Capì Gli uomini a cui Alan diceva di avere sparato Non erano paesani strapatti Il mondo era mutato Come se qualcuno avesse cambiato canale all'improvviso Pensi di stare guardando una sitcom Invece è un film dell'orrore Quando gli uccelli attaccarono il cottage Barry non ne fu sorpreso Solo terrorizzato Ehm Caro Barry Ehm Alcune volte capita Ti vedi in una sitcom Poi capisci che è beautiful E tutto si trasforma in un Minifilm dell'orrore Ma Ehm Capita a tutti Ok Ok Ehm Uh scala Però prima voglio vedere se ci sono delle mu- Uh cos'è questo? Un thermos dammi qui Ok Ok Wow Arrampichiamoci Su 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 Ok quel Cosa che cadeva Cioè Non mi sembra molto stabile come Appunto Si dicevo non mi sembra molto stabile come il piranaio ma C'è una cosa che capitano Credo Spero Magari Forse No? Non lo so? Oh mio dio Ehm Wow Comunque arriveranno Una carrellata adesso di Gameplay Lo dico The darkness Where Che cazzo c'è scritto? Oh Oh Ma Ma muori Muori Ho una lanterna No No Non funziona Sì 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 ma eh Che cazzo L'oscurità Veste La loro faccia Va bene Ok Ottimo Come dici tu? Oh yeah Se Dai Ricarica questo cazzo di fucile Però Prima ovviamente Scarichiamo la pistola Perché Sprecare il fucile così Per dei cazzoni Mi sembra Da ignoranti E da coglioni soprattutto Ma vabbè Allora Vediamo un po' Qui C'è niente? No? Dai Alan Dai Ok Ok Spero di non essermi Dove Dove siete corvi di merda? Ok Niente apri Qui c'è? Sì Sì Vai così Alan Vai così Di solito Tipo in questi posti Dimenticati da Dio Ci dovrebbero essere A parte che tutto questo bosco E' dimenticato da Dio Ma Dimenticato anche da qualsiasi altro San Oh Liscio Liscio E qui Come here bitch Uh Bitch Come Oh fuck 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 Oh no Indietro Indietro Oh merda Ho quasi finito le pile No 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 Mori Sì 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 Ok 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 Oh mio Dio Oh Oh C'è cazzo Non ho delle armi Un po' buffi Tipo un Un mitragliatore A canne rotanti Da quattromila Quattromille mila colpi No? Oh mio Dio Oh mio Dio Sei un cane Dai su Sei già stanco Oh Nice Uh Che poi ho tipo 5 bengala Ma mi dimentico di usarli sempre Dai ma che cazzo se ne frega tanto Uh dai sì Pallotto che ha profusione Niente per il fucile Campgrounds Ok Go to campground Oh What? What? I don't know Uh No 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 La motosega no La motosega no È odiosa È odiosa in culo Ora ho capito perché mi hanno dato Questi Cazzo di cosi No 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 carissimo Carissimo Rimani lì Non ti muovere Peccati questa Ciappa Eh? Non vieni più eh? Mmm Ho fatto bene a tenermi bengala Tipo Mi saranno utili Sì Guarda Oh Cazzo Vieni qui vieni qui vieni qui Vieni qui vieni qui che ti Wow Dimmi che tipo l'ho Gli ho tolta la Sì che gli ho tolta Vieni qui Ceccia bomba di merda Ok ok Prendi questo Headshot Credo Era un headshot Sì sì Era chiaramente un headshot Penso Lo so What the hell Campground Campground Go Here Go 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 Ok Basta Ehm Sto vedendo se c'era qualcosa Intanto tipo sbroccavo in inglese Sbroccavo grammaticalmente in inglese Ma va bene Ok fa niente Fa niente Campground Ok Dirigiamoci verso questo pantomatico Campground Che poi stavo dicendo una cosa prima Mi sono completamente dimenticato Ah sì ecco Cioè prima di andare qui perché uscirà un'altra cosa e mi discorderò di nuovo E sto dicendo usciranno una garellata di video di Alan Wake e Syndicate Ehm Perché praticamente voglio terminarli prima della fine di aprile così da essere libero per iniziare le altre due serie Ehm Mh 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 Non muoverti Torno subito Cerca solo di tenere accese le luci Ehm Cazzo di Corvi di merda Via 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 Corvi Via Ehm Uh Termos Dovevo ancora raggiungere Barry nel cottage Ma almeno ero fuori dalla foresta Torna da Barry Beh almeno ero fuori dalla foresta Aspetta a dirlo Cioè no Fuori dalla foresta si Vabbè Certo non ha detto sono fuori dal pericolo Che tanto adesso usciranno altri 7500 miliardi di mostri Dovevo aprire il garage e prendere la macchina Sarei arrivato prima da Barry Certo i fari sarebbero sicuri Sì ma Ehm Trova le chiavi del garage che saranno lì sicuramente Oh Cazzo di Corvi Ehm Prendiamo un attimo la pagina del manoscritto e leggiamo cosa dirà Mh Night Night Gale Spara Wake All'ordine dell'agente dell'FBI Mi bloccai Pensai di arrendermi Stava andando tutto a rotoli comunque Avrei potuto mollare Lasciare che qualcun altro se ne occupasse Ma qualcosa non andava La sua postura Il modo di impugnare la pistola Non aveva buone intenzioni Gli spari mi risuonavano nelle orecchie Quando mi gettai nel buco della recinzione e nell'oscurità Ottimo Ci gettiamo nell'oscurità Perché tanto Non stiamo giocando a un gioco Dove Quando stai Al buio È praticamente Morto È certa No Non ti preoccupare Tranquillo uomo Tranquillo Uh Munizioni per il fucile da caccia Perfetto Adesso Ci inchiappetteremo qualcuno con questo bellissimo fucile Uh No No Rimani Rimani accesa Rimani fottutamente accesa Chiavi del garage Adesso si accenderà la televisione 10 a 1 No Una storia non è una macchina che obbligisce dei comandi È una creatura con una vita propria Puoi scriverla Plasmarla Ma quando cresce inizia ad avere una volontà propria Cambi qualcosa E scateni una reazione a catena che si diffonde in tutte le direzioni I personaggi devono essere sempre coerenti con se stessi Gli eventi devono seguire una logica calzante Un solo errore E la magia svanisce La storia muore Alice muore Oh 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 Peso piccioni di merda Ok Oh Oh Dio santo No perché piccioni sono dei corvi di merda Non so perché ma tanto 10 a 1 Che ci si spingeranno i fari Guida Uh Posso? Si Come here Come here little fuckers I kill you Oh no 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 Yeah Oh yeah Ehm Di qua Perché? Boom Oh vedete c'è il freccino Posso uscire dal Certo perché qui ci sarà sicuramente Nascosto qualcosa Mi devo anche sbrigare A prenderlo Apri che c'è Bengala Oh Fortuna che hanno una mira di merda No no Tira fuori questo cazzo di Bengala Guida Su Oh Ok Ok Ci abbiamo fatto E stiamo solo a 12 minuti O un po' di più Non so No credo che Stiamo a 13 Si I kill you Ehm Dove cazzo Oh di qua Oh Soprattutto Ho tipo il simbolo della batteria Lì in alta sinistra Quindi credo che A un tratto Mi si Oh Culo Si scaricherà la batteria Ah no Si ricarica È solo quella per potenziare i pari Iguali alla Alla torcia Torcino Ehm Sto anche Facendo fumo Quindi Credo che No no Si 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 Sto andando in una direzione giusta Mi scordo sempre di guardare la mappina Oh oh Ok Fari Non lasciatemi Ora Macchina Ti pre No Please Oh Devo scendere Fuck Ok Guarda Ora Sponterà fuori Un cazzo di mostro enorme E io ovviamente Prendo tutto La pistola lanciarazzi Era la miglior arma Immaginata Si Pistolone Lanciarazzi Yeah I love you I love you Wow 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 What's up What's up What's up What's up Che cazzo ho detto Non lo so Ma Ah Pover Che so Non mi dire che ho fatto la cazzata più grande Di questo mondo Si esattamente E Vaffanculo Alan Oh Oh That's Sup What's up What's up Ninja time Ninja I'm a ninja I love it What's up Oh No Pardon Yeah Nononononononononono Oh no no Chi cazzo mi sta sparando Qui sei tu Tutta culpa tua Boom Nice shot Yeah Little fuckers Reload Reload faster Alan Oh no Ok Solo la torcia Ok Dove Devo andare Dove Ok Ok Sono un coglione C'è sempre il segnalino luminosino Oh mio dio Sembro Flanders Dei Sipson Oh Oh si Grazie Grazie Corrente Grazie Enel Per questo Cazzo è l'Enel Non mi ricordo Oh vabbè Era il rapitore Figlio di puttana Dov'è mia moglie? Basta giochetti Wake Consegnami il manoscritto E riavrai la tua donna Chiaro come l'acqua Non c'è Senti Senti Ho bisogno di tempo Per finirlo Devo scrivere il finale Mi serve Una settimana Devi finirlo? Mi serve una settimana Due giorni Nella vecchia miniera Di carbone di Brightwood La troverai facilmente Da merino Nell'edificio principale A mezzogiorno Porta il manoscritto E avrai tua moglie Altrimenti Capito? Sì Sì Ho capito Ok Ok Alan Sei in mezzo al cazzo No in mezzo al cazzo In mezzo ai casini Accendiamo le luci Perché devo tenerle spente? Ok Sei in mezzo ai casini più totali Perché adesso ci dobbiamo mettere a scrivere anche un fottutissimo romanzo Per salvare tua moglie Perché tu avevi un cazzo di blocco dello scrittore Sei venuto qui Non so che cosa è successo Oh mio dio Siamo fottuti Siamo terribilmente fottuti E Bery aveva parlato di ucce Ah cazzo Wow 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 Bengala 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 Munizioni per lanciarazzi Ottimo ottimo Qui vediamo se c'è qualcosa Oh mio dio Dimmi che c'è qualcosa Non c'è un cazzo Non c'è un merito Cazzo L'oscurità controlla i posseduti Lo so Lo so che l'oscurità Cazzo Dove mi indica questa di qua? Oh Che cazzo Oh ok 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 Apri Che c'è? Lanciarazzi Lanciarazzi Sì Sì Oh 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 No 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 Ehm Bery 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 Apri questa Oh cazzo Dimmi che sono morti Dimmi che sono morti Ehm C'è Devo Come Oh Cazzo Faccio ucciderli tutti Ehm Fottutamente Impossibile C'è Dai Ho due colpi Sei ben calai Oh Cazzo Ok Wow 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 Sono 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 Oh Oh Ok Ok Qui sta andando di male In peggio Dai Oh Fuck Mi rimasto Un lanciarazzi Solo Bava Fufu Ok Adesso Useremo I bengala Appena ci sono Sconfiggi Gli uccelli Ok Ok Oh 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 Fuck 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 Fantastico Come faccio Ah Merda Merda Siamo nei Completi No Ce l'ho fatta No Non manco Veri Cazzo Manco Peri Kattazu Oh ma come si fa dai è impossibile sono rimasto con tre maledettissimi perry perry cristo santo devo ucciderli tutti ma no è impossibile è fottuto a me ok se io mi metto ok mi piazzo qui sotto appena prima non mi faccio il culo oh forza oh cazzo sono rimasto con un meccala su io oddio santissimo c'è un modo che io non lo vedo sinceramente un modo per non figgere gli uccelli ok permi tutti cioè ci deve essere un modo cioè non è possibile se mi apri la finestra ti senti male vero brutto testa di minchia ok 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 ti punterò la mia lampadona così semplicemente perfetto 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 ok sono un grande oh è appena in tempo ok perfetto quindi ragazzi me ci vediamo nel prossimo video campaign qui è tutto dal vostro rex91 e spero che il video vi sia piaciuto un grandissimo apprezzione e ciao a tutti dal vostro rex91 ciao se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace qui sotto e inserisci il video tra i tuoi preferiti inoltre scrivi un commento così da farmi sapere cosa ne pensi del mio video e oltre a questo se vuoi continuare a seguire le mie serie non ti resta che iscriviti al mio canale con il bottone qui sopra e continuare a seguirmi anche su facebook e twitter qui al lato così da non perderti nessun aggiornamento ci vediamo ciao ciao